Ho simulato la Bundesliga fino al 2042 su FIFA 23. Dopo aver tentato di prevedere il futuro della Liga francese e della Premier League inglese, oggi voliamo in Germania, il cui campionato nell'ultimo decennio è stato letteralmente dominato da una singola squadra, il Bayern Monaco. Cosa accadrà al calcio tedesco nei prossimi vent'anni secondo FIFA 23? Il Bayern continuerà a vincere oppure qualcuno sarà in grado di interrompere il suo strapotere? Scopriamolo insieme! Dunque, il concetto del video è molto semplice, simulare 20 anni in modalità carriera dalla stagione 2022-2023 alla stagione 2041-2042 e controllare di anno in anno le seguenti cose. Il bomber di ogni stagione è così da poter eleggere la scarpa d'oro della scarpa d'oro, quindi il miglior goleador dell'intera simulazione, i vincitori della Bundesliga e della Deutsche Pokal, quindi la Coppa di Germania, più l'andamento delle squadre tedesche nelle competizioni europee e infine i punti accumulati da ciascuna squadra al termine di ogni stagione così da poter stilare una maxi classifica al termine della simulazione ed eleggere così la miglior squadra del video. Prima di cominciare vi ricordo che tutti i giorni dal lunedì al venerdì mi trovate in live a partire dalle ore 7. Nel mese di agosto diviso a metà tra Twitch e YouTube dopodiché a partire da settembre comincerò a streammare fisso su YouTube ma intanto continuate pure a seguirmi su Twitch, vi lascio il link in descrizione. E ora, siccome credo di aver parlato abbastanza, direi che possiamo cominciare la prima stagione con una squadra completamente randomica che andremo a selezionare tra 3, 2, 1, il Friburgo e come sempre ci tengo a ricordare che per par condicio, per non avvantaggiare nessuna delle 18 squadre di Bundesliga di anno in anno cambierò team e andrò a rinnovare tutti quanti i contratti in scadenza che ha quella squadra. Eh, Mattiar, perché non fai questo? Perché non fai quell'altro? Questo è il modo migliore. Lo so che a turno avranno tutte e quante due sessioni di mercato bloccate ma per l'appunto lo faranno a turno quindi nessuno verrà più avvantaggiato degli altri, ecco. In ogni caso, splendori, mentre va avanti la simulazione io vi invito a lasciare like a questo video se ancora non lo avete fatto e iscrivervi al canale perché pian piano stiamo arrivando ai 500.000 iscritti e niente, ci si becca a giugno 2023. E una volta arrivati a giugno 2023 mi sono reso conto di una cosa molto particolare che riguarda il campionato tedesco. Infatti guardando la parte bassa della classifica possiamo vedere che le ultime due, cioè Ertha Berlino e Bochum hanno il segnalino rosso alla loro sinistra perché vuol dire che sono automaticamente retrocesse in Zweite Bundesliga quindi la Serie B della Germania. Mentre il Werder Bremen ha il segnalino arancione, questo perché? Perché in Germania la terz'ultima della Bundesliga deve giocare un play-out andato e ritorno contro la terza della Zweite Bundesliga e quindi il Werder Bremen in questo caso ha giocato contro l'Arminia Bielefeld che con un punteggio totale di 3 a 2 batte proprio il Werder Bremen e quindi il Werder Bremen scende in Zweite Bundesliga. Però questa cosa non succederà tutti gli anni, quindi ci saranno delle annate con due retrocesse e delle annate con tre, ok? A questo non ci avevo pensato, cioè alla fin fine cambia poco però è semplicemente una cosa che ci tengo a far notare. Per quello che riguarda le parti alte della classifica invece il Bayern Monaco così come nella vita reale vince anche il campionato nella stagione 2022-2023 e andrà a giocare in Champions insieme al Bayern Leverkusen, al Borussia Dortmund e all'Eintracht Francoforte. Soltanto il Dortmund è finito in Champions di queste tre. Dopodiché con il Borussia Dortmund che invece alza la DFB Pokal avremo il Lipsia e lo stramaledettissimo Lupopoli in Europa League con il Borussia Mönchengladbach invece a giocarsi la Conference. Capito l'Europa forse è l'unica che può aver combinato qualcosa, è proprio il Bayern Monaco che invece è uscito in semifinale per mano dell'Atletico Madrid che poi la Coppa l'ha addirittura vinta e neanche nelle altre due competizioni hanno combinato niente le tedesche, molto bene. Sarà una simulazione decisamente avara di trofei europei. Ma in tutto questo con Lewandowski che ha abbandonato la Bundeskiss, sarà stato al bomber di turno? Randall Colomuani con ben 24 reti in 34 partite. Non male Randall. Ah, è giusto per curiosità, trasferimenti strani e particolari. Ah, giusto Henry Kane al Bayern Monaco con Ozyman che viene mandato agli Spurs come sostituto di Kane. Beh, tutto nella norma. Mentre in questo universo il Borussia Dortmund ha perso Bellingham in anticipo. Per il resto, boh, non ci sono stati grandi spostamenti, ok? Kamada dal Francoforte al Dortmund, ma nessun nome grosso, nessun nome particolarmente importante. Stagione 2, mamma mia che schifezza. Perché, va bene, da un lato c'è da dire che il campionato tedesco ha 4 partite in meno rispetto a quello italiano, quello francese, quello inglese e quant'altro. Però comunque concludere con solo 14 punti è imbarazzante, signor Schalke. Così come è imbarazzante che l'Eidenheim si sia salvato facendone soltanto 22. Cioè, no, non dovrebbero succedere cose del genere. In ogni caso, in Zweite Bundesliga retrocedono lo Schalke, l'Arminia Bielefeld, e anche il San Paoli che ha i play-out ne prende ben 5 dal Darmstadt. Seconda Coppa di Germania in due annate per il Borussia Dortmund, che batte 3-2 lo Stoccard in finale, ma che in campionato conclude di nuovo alle spalle del Bayern Monaco. Secondo posto. E quindi Champions League insieme all'Upopoli, all'Ipsia, con l'Everkusen e Mönchengladbach in Europa League, e l'Uffinheim in Conference. Ovviamente Bayern, campione di Germania, è tipo l'undicesimo, dodicesimo titolo consecutivo, ma in Europa le tiresche sono ancora non pervenute, cioè non solo non hanno vinto niente, non sono neanche apparsa in finale. In tutto questo l'Inter ha venduto tre quarti di squadra, ma il Bayern Monaco ha piazzato il colpaccio. Florian Wirz, il giovanissimo talento dell'Everkusen che passa per la punta ai bavaresi per ben 126 milioni. Ha però c'è da dire che l'Everkusen si è consolato con Gavi, è mica l'ultimo degli stronzi. Per il resto la Bundes sta principalmente vendendo, cioè nessuno sta comprando. Tranne l'Everkusen evidentemente. Però sì, continuano a vendere. Oh cazzo, Christian Pulisi che è finito al Milan anche in questo universo, è incredibile. Ecco, un bel colpo è stato quello del Borussia che ha acquistato Cugna dall'Atletico Madrid, dato che il brasiliano è stato capocannoniere del campionato a pari merito con Cuncu. Però ha soltanto 21 gol a entrambi, cioè un po' lame se posso permettermi. E anche questo giro ha mercato in uscita per la Bundesliga. Dani Olmo al Chelsea, Colomuania alla Juventus, Schlotterbeck al Newcastle, Gravenberg ha la Fiorentina, cioè l'unica squadra che sembra acquistare giocatori è il Leverkusen, perché ha preso Alvarez, ha preso Gleison Bremer e insomma il Leverkusen sta tirando su una bella squadra. Tuttavia gli acquisti sono serviti soltanto a mandare il Leverkusen in Champions League, insieme al Borussia Dortmund, all'Ipsia e al Bayern Monaco, campione per la terza volta consecutiva. Ma attenzione al Leipzig perché sta iniziando a venire fuori, è arrivato soltanto a meno uno dal Bayern l'anno prossimo potrebbe vincere. Tra l'altro l'Ipsia si è anche portato a casa il suo primo trofeo, battendo in finale di Deutsche Pokal il Borussia Dortmund, e quindi Borussia Mönchengladbach e Augsburg si giocheranno l'Europa League, con l'Union Berlin che raggiunge l'Europa per la prima volta e andrà a giocare la Conference. Mentre parlando di play-out finalmente vediamo scendere in campo il Fortuna Düsseldorf, anche se ormai l'atto di fare avanti e indietro da Serie A a Serie B, Serie A a Serie B è più una cosa che possiamo definire Clermont-Futtata che Düsseldorfata. E comunque avendo il Düsseldorf vinto il play-out, in Zweite Bundesliga scenderanno il Darmstadt, Lidenheim e l'Hamburgo. Povero Hamburgo, dodici anni di purgatorio poi, e vai di nuovo Bundes, oh! Grande tristezza per i soli 20 punti accumulati. Clamorosamente in Europa abbiamo visto prima una squadra belga trionfare piuttosto che una tedesca, ma hey, almeno una di loro ha raggiunto la finale di Champions e non è il Bayern, ma sì il Lipsia. Ah, ultima cosina da guardare, il bomber così, chi sarà stato questo giro? Julian Alvarez del Leverkusen con 21 gol. Minchia, però vedere Ienaccio Soboslai come secondi nella classifica cannonieri fa proprio male. Noto con piacere che il Leverkusen si è tenuti stretti i due acquisti dell'anno scorso. Gavi all'Arsenal con Atea Lipsia. Ma signori, il gol più importante è stato Jonathan David dal Real Madrid al Borussia Dortmund. E questo perché il canadese, alla sua prima annata in Bundesliga, è riuscito a vincere la Scarpa d'Oro con 21 gol. È il terzo anno di fila che qualcuno vince la Scarpa d'Oro con soltanto 21 gol. Inizia a essere un po' noioso e ripetitivo. Così come è noioso e ripetitivo il fatto che sia sempre il Bayern a vincere quarto di fila in questa simulazione, tipo quattordicesimo in totale. E comunque l'anno si conclude con il Borussia Dortmund, il Lipsia e il Leverkusen che si qualificano alla Champions, il Francoforte e il Borussia Mönchengladbach in Europa League, mentre il Wolfsburg in Conference. Mamma mia Wolfsburg, il lupopoli maledetto. Per quello che riguarda la Deutsche Pokalce alla Coppa di Germania, la squadra campione è il Lipsia con la sua seconda Coppa Nazionale di fila, mentre se passiamo ai play-out possiamo notare che per la quarta volta in quattro anni a vincere i play-out è la squadra che stava in zweite Bundesliga. No, non è vero, sono un idiota, lo Schalke era già in Bundesliga, ma per l'appunto è la prima volta che una squadra di Bundesliga si salva i play-out. Pertanto a retrocedere saranno soltanto il Düsseldorf e il Colonia, che fino all'anno scorso stava andando divinamente, e quindi sarà il Bochum a rimanere incastrato in Serie B anche l'anno prossimo, ok? Inizio già a fare confusione, andiamo bene, siamo solo alla quarta stagione. Ebbene, il livello della Bundesliga sta crollando sempre di più e siamo soltanto alla quinta stagione! Bayern Monaco campione di Germania con soltanto 68 punti e soltanto per la differenza reti. Infatti ha concluso a più 27 rispetto al più 22 del Borussia Dortmund e quindi ha sollevato per la quinta volta il titolo tedesco, mentre il Dortmund si deve accontentare dell'ennesima qualificazione in Champions League. Così come si devono accontentare sia il Leverkusen, che tra l'altro ha pure avuto la possibilità di vincere il titolo, sia il Lipsia, con Wolfsburg e Offenheim in Europa League e lo Stuttgart in Conference. Per il resto anche scendendo vedo che il campionato si sta appiattendo abbastanza, cioè che il divario tra la prima e l'ultima sta calando sempre di più. E comunque quest'anno retrocedono sia il Darmstadt che l'Arminia Bielefeld. E questo perché? Perché l'Augsburg è riuscito a superare il Bochum in finale play-out. Regà, il Bochum è tipo il terzo anno che perde la finale play-off. Meravigliosi. In Coppa di Germania invece trionfa il Borussia Dortmund per 2-1 in finale col Mainz. Sarebbe bello vedere qualcuno di diverso da Bayern, Borussia, oppure ancora Lipsia vincere qualcosa. Ma tanto sono loro tre a dominare, per il resto in Europa non ne stiamo neanche beccando una per sbaglio in finale. Migliore acquisto dell'anno probabilmente Chouameni che va all'Everkusen. E occhio all'Everkusen, regà, perché io ve lo dico. Se continua così l'anno prossimo vince qualcosa, purché non venda tutti. Mentre per quello che riguarda la classifica marcatori ne abbiamo due a pari merito di davanti, ossia Gabriel Jesus dell'Everkusen ed Henry Kane del Bayern Monaco, che finalmente si becca il primo posto e la Scarpadoria in Germania. Ci sono voluti cinque anni, eh, comunque non pochi. Comunque è incredibile come il campionato tedesco sia praticamente di passaggio, perché nessuno di questi attaccanti dovrebbe essere in questo campionato, e nessuno di questi sarà qui tra un anno o due probabilmente. Soprattutto Facundo Farias, che al Friburgo difficilmente ci rimane. Comunque è Nesiri capocannoniere per il Francoforte con 23 gol, ma signori, quest'anno sono successe cose. Per quello che riguarda la parte bassa della classifica, retrocedono lo Schalke 04 e il San Paoli, mentre il Köln batte in finale play-out il Monaco 1860, che se avesse vinto questa doppia sfida sarebbe stata la prima squadra di dritte liga, quindi serie C tedesca, a raggiungere la Bundesliga, in Europa non aspettatevi niente di che, le tedesche continuano a non apparire neanche per sbaglio in una finale, così come non dovrebbe stupire il fatto che oramai la Deutsche Pokal appartenga o al Borussia o all'Ipsia. Questo giro sono di nuovo i gialloneri a vincenla per la quarta volta in sei stagioni, ma signori, il Dortmund non si è fermato lì portandosi a casa anche il primo titolo di Bundesliga in questa simulazione, il primo vinto da una squadra che non sia il Bayern Monaco. Bavarisi che arrivano terzi alle spalle anche dell'Everkusen e finiscono quindi in Champions insieme per l'appunto al Dortmund, all'Everkusen e al Francoforte. L'Ipsia che continua a danzare in zona Europa League insieme al Friburgo con l'Herta Berlino che arriva a giocarsi la Conference League. Vabbè, andiamo alla stagione 7. Un saluto al pullulico Greuter Fürth che viene eliminato dall'Union Berlin in finale play-out e quindi si salva l'Union Berlin che aveva raggiunto i play-out soltanto grazie alla differenza reti con Herta Berlino e Werder Brema che retrocedono in Zweite Bundesliga. Il che è strano perché se non sbaglio l'Herta l'anno scorso era in Europa. Confermo, l'anno scorso l'Herta Berlino ha giocato alla Conference, cioè meglio in questa stagione ha giocato alla Conference. Non lo so, questo gioco è strano, non me ne capacito. Ma così come il Friburgo era in Europa League, vabbè, non parliamone. La Coppa di Germania l'ha vinta il Bayern Monaco, incredibile. Per la prima volta in 7 anni questa Coppa viene alzata dai bavaresi e non da Dortmund oppure l'Ipsia con il BVB che tra parentesi concede nuovamente il titolo al Bayern e nuovamente per via della differenza reti. Quindi una sfortuna enorme per il Borussia Dortmund che non riesce a cavarsela neanche in simulazione, già è sfortunata in real life. Qui ancora peggio, è il secondo campionato in 3 anni che perde così, vabbè. In tutto questo Frankfurt e l'Ipsia in Champions League. Wolfsburg e l'Everkusen in Europa League con l'Offenheim che si giocherà alla Conference. Bella squadretta l'Offenheim. E tornando all'Europa, raga, è sempre la stessa storia, è sempre la stessa solfa. E vabbè, vediamo chi ha vinto il titolo di capocannoniere quest'anno. Yusufa Mukoko con solo 20 gol. Andiamo benissimo, che annata terribile. Posso dire che non so cosa sia più strano tra la Real Sociedad in finale di Champions League, il Manchester City che vince l'Europa League e un'esoticissima finale di Conference tra 20 e Midt-Hilland. Forse quest'ultima. E comunque l'Ipsia in tutto questo è andata a vincere la sua terza Deutsche Pokal. Ma in Germania continua a non riuscire a raggiungere la Champions League. Infatti quinto anche quest'anno e quindi in Europa League insieme a Francoforte, Offenheim in Conference League. Mentre in Champions andranno lo Stoccarda, a sorpresa, bella squadra lo Stoccarda, il Borussia Dortmund, il Leverkusen e la squadra che per la settima volta in otto anni ha vinto il titolo. Indovinate un po', il Bayern Monaco. Tra l'altro con un gran bel distacco, 76 punti più 15 sulla seconda. Mentre scendendo verso il basso retrocedono in Zweite Bundesliga lo Schalke e il Darmstadt con il Mainz che si salva i play-out battendo la Nofer per 5-3. Tra l'altro, fun fact, dal momento esatto in cui ho detto Ehi, ma hanno sempre vinto le squadre di Zweite Bundesliga, le squadre di Zweite Bundesliga non hanno più vinto i play-out. Mentre per quello che riguarda il titolo di capocannoniere abbiamo Wahide Leverkusen, ma soprattutto abbiamo Colomuani, che a sette anni di distanza dalla prima volta torna a vincere il titolo di Scarpadoro, ma lo fa con una maglia diversa, ossia quella del Bayern. Stagione numero 9 di Bundesliga che si conclude con Facundo Faria, scapocannoniere con 23 gol. Saranno riuscite le tedesche a vincere qualcosina in Europa? Incredibilmente sì! Borussia Dortmund che si porta a casa all'Europa League in finale contro la Real Sociedad e poi basta, per il resto torniamo alla mediocrità. Però fico! Finalmente una tedesca a trionfare in Europa. In territorio domestico invece l'Ipsia vince la sua quarta Deutsche Pokal, mentre in finale play-off il Darmstadt ha battuto l'Arminia Bielefeld, ma quale delle due stava in Bundes? Evidentemente l'Arminia Bielefeld e quindi ecco, prima ho fatto notare che continuavano a vincere sempre soltanto le squadre di Bundes, ora ha perso. Chiaro, no? Cioè, mi pare tutto corretto. E comunque, raga, c'è incredibile merito, il Borussia Mönchengladbach. Certo, è il campionato più stretto della storia, perché tra la penultima e la decima ballano quattro punti, cioè sette squadre in quattro punti, il che è allucinante. Ma il Mönchengladbach retrocesso è forse la prima grande sorpresa di tutta questa simulazione. Si sono salvati sia l'Hamburgo che il San Paolo che il Werder Bremer. Retrocede invece il Mainz insieme al Gladbach e l'Arminia Bielefeld. Mentre andando in su abbiamo un Borussia Dortmund che fa una bella doppietta Europa League campionato, l'Ipsia Bayern e l'Iverkusen. Insieme al Borussia l'anno prossimo giocheranno in Champions, Friburgo e Offenheim in Europa League col Francoforte in conference. Certo però che se fossi il Francoforte starei rosicando di brutto, cioè l'unico motivo per cui ho perso l'accesso all'Europa League è il numero di gol fatti. Tutto il resto è perfettamente pari con l'Offenheim Maró. Una rosicata dopo l'altra, incredibile. Porca merda, che scambio. Questo Keller dall'Union Berlina all'Offenheim per 125 milioni ed è un portiere. Alla faccia del cazzo. Stagione numero 10 siamo arrivati a metà della simulazione e credo che il Borussia abbia ufficialmente aperto il vaso di Pandora. Infatti non solo il Francoforte trionfa in Conference League nell'anno 2032 ma andando a vedere la Champions League. I gialloneri di Dortmund sono riusciti a vincere il trofeo dopo quasi 30 anni, anche di più, anche quasi 40. Dall'ultima volta in cui erano riusciti a vincere negli anni 90 battendo in finale l'Ipsia per giunta. Quindi a prescindere questa Champions sarebbe finita in Germania. Abbiamo per la prima volta dopo 9 anni una squadra diversa da Bayern, l'Ipsia o Dortmund a sollevare un trofeo. Signore e signori il Bayern Leverkusen. E anche un validissimo secondo posto a meno 3 dal Borussia Dortmund campione di Germania. Borussia che quindi ha fatto la doppietta e anche l'anno prossimo giocherà la Champions insieme per l'appunto al Leverkusen al Bayern Monaco e all'Ipsia. In Europa League invece andranno il Colonia che è spuntato fuori dal nulla non aveva mai fatto più di 41 punti. No, non è vero aveva fatto 52 punti al secondo anno e poi però era anche scomparso era anche nel processo l'Europa League con il Franco Forte fresco campione di Conference e il Friburgo che con solo 44 punti si qualifica alla Conference League. Mentre in fondo alla classifica abbiamo il San Paoli con solo 18 punti che retrocede insieme al Werder Brema e anche allo Stoccarda perché il Borussia Mönchengladbach dopo un singolo anno in 3D Bundesliga tornerà subito in Bundes. Ultima cosa da controllare il capo cannoniere di quest'anno perché non ho idea di chi l'abbia vinto a minchia la coppia Muccoco del Dortmund e Musiale del Bayern Monaco entrambi con 25 gol che quindi si mettono al primo posto proprio sul gradino più alto del podio della Scarpadoro della Scarpadoro in questo momento. Stagione numero 11 per la terza volta nelle ultime 5 stagioni il capo cannoniere della Bundesliga è Yusufa Muccoco ma in tutto questo a due anni di distanza dall'ultima volta il Bayern Monaco torna a vincere il campionato tedesco e giocherà quindi la Champions dell'anno prossimo insieme al Leverkusen al Dortmund e al Francoforte. Dopodiché con il Leverkusen che alza la Coppa di Germania e vince quindi il suo secondo titolo Yes consecutivo tra l'altro perché il primo l'ha vinto l'anno scorso proprio in Coppa di Germania il Friburgo e il Colonia andranno a giocarsi l'Europa League con il Lipsia che invece cala addirittura in conference che strano il Lipsia di solito diventa uno squadrone e vince svariati titoli nei primi anni qua non sta accadendo continua ad andare molto bene il Darmstadt che forse di questo passo potrebbe anche raggiungere l'Europa entro la fine della simulazione il Borussia Mönchengladbach si salva di nuovo per un pelissimo e infine con il Mainz che batte il San Paolo nella finale play-out a retrocedere sono soltanto l'Augsburg e l'Hamburg posso dire una cosa mi manca il Düsseldorf cioè un pochettino mi dispiace non vederlo qui e tra l'altro il Bayern è arrivato in finale di Champions ma come ne hanno reso conto con il Francoforte che ha perso quello di Europa League ah e tra parentesi per quello che riguarda gli spostamenti e trasferimenti da una squadra all'altra non mostrerò più niente perché ormai sono tutti quanti rigen o prigen e cosa dicevo sull'Ipsia letteralmente due minuti fa che ancora non aveva vinto il titolo e quindi l'ha fatto nella stagione successiva l'Ipsia campione di Germania nel 2034 e quindi andrà in Champions insieme al Bayern Monaco al Borussia Dortmund e al Wolfsburg con Bayern Leverkusen e Francoforte in Europa League più l'Hoffenheim in Conference Francoforte che tra parentesi vince la Coppa di Germania in finale contro l'Augsburg che è una squadra che attualmente si trova in Zweite Bundesliga e che grazie a questa vittoria ottiene il suo primo titolo della simulazione no? forse il secondo? dimenticavo che avesse vinto una Conference un paio di stagioni fa comunque buona stagione del Francoforte mentre ai play-out l'Arminia Bielefeld riesce a battere il Monaco 1860 che per la seconda volta fallisce nell'essere la prima squadra che passa dalla dritta Liga alla Bundesliga in questa simulazione e quindi col Bielefeld salvo retrocedono Werder Brema e Mainz per concludere al di là del fatto che sono sorpreso che Adeyemi continui a essere così tanto frequentemente nella top 5 senza aver mai vinto il titolo capocannonieri perché anche quest'anno è stato vinto da Jamal Musiala 25 gol per lui giugno 2035 e tristemente il Darmstadt ha cominciato a calare cioè era un passo così dall'Europa un paio di stagioni fa anche l'anno scorso l'era quest'anno addirittura dodicesimo ben più vicino alla zona retrocessione dove ci sono finite l'Augsburg lo Stoccarda e l'Arminia Bielefeld che tuttavia si è salvata ai rigori ai play-out anzi non ai rigori per i gol in trasferta ancora peggio la Coppa di Germania la vince il Bayern Leverkusen per la terza volta in quattro anni e quindi insieme al Borussia Dortmund campione di Germania in Champions finiscono al Bayern in Leverkusen in Lipsia con Lupopoli e Union Berlin in Europa League e l'Hoffenheim in Conference ormai l'Hoffenheim è sempre lì il Bayern perde la sua seconda finale di Champions in tre anni molto bene bomber di stagione che è stato rullo di tamburi per l'ennesima volta Yusufa Mukoko con un signor Mayer questo giro però stagione numero 14 ed è successo tutto quanto in questa singola annata cioè incredibile punto primo abbiamo la prima squadra che dalla dritta liga quindi dalla serie C tedesca raggiunge la Bundesliga ossia il Monaco 1860 che dopo sbagliati tentativi finalmente ce l'ha fatta ma è retrocesso immediatamente insieme allo Schalke 04 con solo 27 punti in campionato il Francoforte che un paio di anni fa ha vinto una Coppa di Germania quest'anno ha rischiato pesantemente la retrocessione ma si è salvato ai play out battendo l'Hannover il Borussia Mönchengladbach dopo anni di schifo vince il suo primo trofeo ossia la DFB Pokal e così facendo elimina addirittura il Bayern dall'Europa perché sì il Bayern è arrivato settimo tra l'altro primo campionato del Bayern Leverkusen che per l'appunto come dicevo due secondi fa finalmente riesce a vincere qualcosa che non siano le tre Coppe di Germania ma dettagli Borussia Dortmund Wolfsburg e Lipsia in Champions League Colonia e Borussia Mönchengladbach in Europa League con il Darmstadt che finalmente raggiunge l'Europa andando a giocarsi la Conference tutto quest'anno è successo io ve l'ho detto in Europa invece le tedesche continuano a perdere e basta il Borussia ha perso la finale di Champions e poi la finale di Conference è stata magica Brugge contro Arus un partitone ah e il bomber è stato il signor González del Darmstadt chi è? non lo so giugno 2037 ultimo anno canonico della carriera di FIFA ossia l'ultimo che FIFA ti consente di fare senza l'aiuto delle mod e vediamo un attivino cos'è successo punto primo il bomber Yusufa Mukoko quell'uomo lì non si toglie più tra l'altro a pari merito con Balogun e Viana dell'Union Berlin ok in Conference League ha trionfato il Trabzonspor ma devo vedere cosa ha combinato il Darmstadt è uscito ai quarti con il Genk ok questa credo sia la finale di Champions più inaspettata e brutta della storia ma sarebbe stato ridicolo se in finale ci fosse arrivato il Wolfsberger dall'Austria ok quindi torniamo in Germania dove la Deutsche Pokal viene vinta dal Borussia Dortmund dopo tipo 5 o 6 stagioni dall'ultima volta ed il Francoforte si salva nuovamente ai play-out per il secondo anno di fila il Francoforte è messo male a retrocedere infatti sono state lo Stoccarda e il Werder Bremen mentre se saliamo il Darmstadt è arrivato soltanto decimo quest'anno purtroppo ma il Leverkusen si conferma campione di Germania e quindi giocherà di nuovo la Champions insieme al Dortmund al Bayern Monaco e al Wolfsburg con l'Ipsi offene in Europa League e il Colonia in Conference tutto abbastanza standard in realtà sono sempre quelle le 7 squadre che si rigirano in quei posti sono passati 16 anni dall'inizio di questa simulazione e indovinate che è ancora il capocannoniere proprio lui Yusuf Amukoko questo giro con solo 19 gol però 19 gol che tuttavia non sono bastate al Borussia Dortmund per vincere il titolo infatti il Dortmund è arrivato quarto alle spalle di Colonia Leverkusen e Bayern Monaco che dopo 5 o 6 stagioni torna finalmente a vincere quindi queste 4 andranno in Champions il Lipsia e il Wolfsburg andranno in Europa League con l'Arminia Bielefeld in Conference e voi direte Tier com'è possibile questa cosa? è possibile perché l'Hoffenheim ha vinto l'Europa League e quindi l'anno prossimo andrà a giocarsi la Champions in detto questo la Coppa di Germania è stata vinta dal Lupopoli col suo primo trofeo della simulazione mentre se guardiamo la parte in basso signori come prevedibile il Francoforte ci abbandona e scende in Zweite Bundesliga insieme alla New Entry Hannover che arriva fa il peggior campionato di tutti e poi torna giù grande Hannover sei la migliore oh no è scomparso Mucocoda la classifica a marcatori ma che cacchio ma soprattutto come straminchia ha fatto il signor Carvaglio a fare 17 gol in 21 partite e non giocarne più di 21 o sia infortunato o quelli del Darmstadt sono Pirla Pirla quasi quanto me che mi ero dimenticato di dirvi che l'anno scorso il Borussia ha vinto la sua seconda Champions e sempre parlando di Europa Leverkusen perde la finale di Champions l'Offenheim quella di Europa League per mano dell'Aberdine e infine l'Arminia Bielefeld vince la Conference League l'Arminia Bielefeld che è qui per sbaglio perché l'anno scorso l'Offenheim ha vinto l'Europa League meraviglioso Pirla Leverkusen che quantomeno si consola portandosi a casa la Coppa di Germania perché poi ha di nuovo da rosicare per essere arrivato secondo in campionato dietro al Dortmund per un singolo gol nella differenza reti io avrei bestemmiato forte o comunque il Darmstadt in Champions bello la prima squadra della zweite Bundesliga che la raggiunge in questo universo con il Lips e l'Arminia Bielefeld in Europa League e il Lupopoli in Conference ma il Bayern Monaco scusate o cazzo City nella simulazione dell'Inghilterra può essere infine in fondo alla classifica retrocedono Mainz e Friburgo mentre lo Stoccarda devasta il Fjord ai play-out e quindi rimane in Bundes anche quest'anno nessuna gloria in Europa però tornando in Germania il Bayern Monaco vince di nuovo la Coppa di Germania dopo tipo 10 stagioni 11 stagioni ed è solo la seconda volta che lo fa in tutta quanta la simulazione il che è parecchio strano e tra l'altro va pure vicino alla doppietta perché è arrivato secondo ad un punto dal Leverkusen che vince così il suo terzo titolo pertanto le due vanno in Champions insieme al Colonia e al Dortmund Offenheim e Darmstadt che andranno a giocarsi l'Europa League e il Lipsia che si giocherà la Conference invece Arminia Bielefeld che torna abbastanza nell'anonimato e con l'annover che batte lo Schalke ai play-out retrocederanno in Zweite Bundesliga lo Schalke il San Paoli e il Monaco 1860 e minchia io non avevo neanche controllato ma non è possibile perché nel 2040 Mukoko è ancora bomber con 23 gol quanti anni ha quell'uomo ne ha solo 35 ma Roe ha ancora un boccia nel 2040 Mukoko potrebbe arrivare fino in fondo quell'uomo è incredibile 36 anni ed è comunque ancora secondo in classifica a marcatori alle spalle però di Cardoso che ne ha fatti 23 in tutto questo però salutiamo definitivamente Düsseldorf Borussia Mönchengladbach e Friburgo che retrocedono tutte quante in Zweite Bundesliga e dal momento che questa è la penultima stagione l'anno prossimo non le vedremo e non le vedremo più il Borussia Dortmund ha fatto un'annataccia ed è crollato nel momento meno opportuno e con il Colonia che solleva il suo primo trofeo cioè una Coppa di Germania il Bayern cade in Conference League con il Colonia che per l'appunto si giocherà l'Europa League insieme all'Arminia Bielefeld con l'Ipsia Wolfsburg Darmstadt e il Leverkusen campione di Germania che si giocheranno la Champions ma quanto è bello il Darmstadt secondo io ci spero che nell'ultimo anno possano combinare qualcosa di buono ma tra l'altro signori il Leverkusen non si è fermato qua e sapete perché? perché ha vinto la sua prima Champions League della simulazione io ve l'ho detto che il Bayern ne vince sempre almeno una questa volta ci ha voluto molto più tempo del previsto però quindi GG a Leverkusen vediamo ora cosa accade nell'ultima annata che cazzo sta succedendo? cioè io avevo aperto la schermata della Champions per un motivo ben preciso ossia farvi vedere che il Palermo è arrivato a giocarsi la Champions League nella stagione numero 20 comunque al di là di questo in che modo il Wolfsburg è campione d'Europa avendo battuto il Brentford in finale io non so cosa dire ma è bellissimo il Monza perde la finale di Europa League ai rigori contro il Lille tristezza e per il resto niente tedesche quindi ufficialmente il Bayern non ha mai vinto la Champions in questa simulazione allucinante ciò nonostante il Bayern vince la sua terza Coppa di Germania in questa ventesima e ultima stagione ma la cosa più clamorosa è che il Darmstadt ce l'ha fatta ha vinto il titolo di Germania alla stagione numero 20 che cosa bella che cosa meravigliosa quindi Leverkusen Wolfsburg e Bayern Monaco in Champions il Colonia e l'Hannover che l'anno scorso aveva fatto soltanto 34 punti in Europa League con l'Union Berlin in conference e voi dite Tierdo Velbo Russia è quattordicesimo con l'Ipsia quindicesimo perché boh in tutto questo rivediamo anche il Bochum che era retrocesso alla prima stagione poi era scomparso proprio nel nulla ma retrocede subito insieme all'Augsburg e anche al San Paoli perché il Greuterfurt il pululico Greuterfurt ha vinto i play out ma non lo vedremo mai in Bundes ultima cosina da controllare il bomber Mukoko sarà ancora lì? non c'è più Mukoko vince il signor bianco dell'Union Berlin ma questa cosa mi rende triste c'è ancora Mukoko c'è ancora però è svincolato merda peccato perché secondo me avrebbe potuto vincere anche quest'anno e niente ora quello che devo fare è andare a inserire tutti quanti i dati di queste 20 stagioni all'interno della gigantesca tabella e poi vediamo un attimino cosa ne viene fuori e cominciamo quindi dalla scarpa d'oro della scarpa d'oro perché sì è il riconoscimento forse più prevedibile dato che con 25 gol è finito nelle mani di Musiala e Mukoko con il primo dei due che è riuscito a raggiungere quota 25 due volte nel 2032 e nel 2034 al secondo posto con 24 gol c'è Randall Colomuani che nella primissima stagione ne ha messi 24 per il Francoforte dopodichè abbiamo 5 stagioni in cui 6 giocatori hanno raggiunto quota 23 tuttavia menzione d'onore a Mukoko che in 7 stagioni su 20 quindi il 35% delle stagioni è stato il capo cannoniere della Bundes userei dire mostruoso dopodichè passiamo all'Albodoro dove sorprendentemente la squadra che ha sollevato più titoli in questi 20 anni di simulazione non è stata il Bayern Monaco bensì il Borussia Dortmund come potete vedere il Bayern ha dominato i primi 8-10 anni dopodichè è scomparso ha vinto giusto un paio di campionati e un paio di coppe e comunque sì i bavarisi sono la squadra che ha vinto più campionati di Germania ben 9 tuttavia il BVB ha vinto un trofeo in più rispetto al Bayern infatti ha sollevato 5 campionati 5 coppe di Germania 2 Champions e un Europa League terzo posto in questa particolare classifica per il Bayern Leverkusen con 4 titoli 4 coppe di Germania e una Champions ma che allo stesso tempo è stata l'unica squadra in grado di qualificarsi in ogni singola annata ad una competizione europea ben 17 volte in Champions League e 3 in Europa League e comunque come potete vedere è stato un campionato parecchio dominato da giusto 4 squadre perché sui 40 titoli disponibili soltanto 5 sono stati vinti da squadre che non fossero le 3 già menzionate o dall'Ipsia Francoforte Gladbach Wolfsburg e Colonia con una coppa e il Darmstadt col titolo all'ultimo anno che cosa meravigliosa squadra più retrocessa il Werder Brema con sole 5 retrocessioni cacchio peccato mi è mancato un po' il Düsseldorf in questo giro e comunque le squadre tedesche che si sono difese ben in Europa cioè alla fine hanno ottenuto ben 8 titoli in tutto che non è malaccio il più clamoroso forse o il Bielefeld in Conference o il Wolfsburg in Champions decidete voi quale ma passando ora alla maxi classifica dei 20 anni di Bundesliga in Germania la squadra che ha collezionato più punti è stata con grande sorpresa di nessuno rullo di tamburi il Bayern Monaco 1377 punti nell'arco di 20 anni che non sono tantissime sono meno di 70 punti a stagione e ok va bene il campionato tedesco gioca 34 partite piuttosto che 38 però sono comunque pochi secondo posto per il Bayern Leverkusen che ne colleziona 1344 e il Borussia Dortmund se non avesse fatto queste ultime due annatacce terribili probabilmente sarebbe stato primo ma ha proprio crollato all'ultimo altre menzioni d'onore in questa classifica sono il Lipsia IV e il Lupopoli V e ora diamo le classiche nomination allora vabbè senza dubbio squadra migliore il Bayern Monaco che ha fatto giusto un paio di annate meh ma per il resto è stata senza dubbio la migliore squadra patetica il Bochum che ha fatto due anni il primo e l'ultimo ha fatto neanche 30 punti divisi in due anni imbarazzante come cosa come squadra mediocre ho l'Offenheim o l'Union Berlin forse l'Union Berlin è meglio ha fatto meno punti rispetto all'Offenheim parecchi di meno e non ha mai vinto nulla a differenza dell'Offenheim che invece un Europa League se l'è portato a casa quindi si squadra mediocre e l'Union Berlin come squadra deludente abbiamo da un lato il Borussia Mönchengladbach perché ha fatto decisamente schifo con anche un paio di retrocessioni e tante annate difficili e l'Herta Berlino che solitamente nell'arco di qualche anno degli squadroni che si gioca nella Champions invece in questa simulazione no neanche lontanamente infine ultimo premio la squadra sorpresa non può che essere una il Darmstadt che nei primi nove anni non si è neanche visto si ha fatto quattro stagioni in Bundes ma in tre è stato retrocesso ma una volta scattato il 2032 ha cominciato una media punti incredibile se avesse fatto così per tutta quanta la durata della simulazione forse sarebbe stato tipo quarto o quinto quindi non male GG al Darmstadt posso dire che sono positivamente sorpreso mi aspettavo di vedere Bayern 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 per vent'anni ora cosa ci mancano è benedetto italiano vero? sì